Siamo con Claudio Di Resta, allenatore della Juniors, bella opportunità, società ambiziosa a livello giovanile che sta lavorando piuttosto bene. Le tue sensazioni personali? Sì, stiamo lavorando bene, la società è organizzata in maniera futurista, sta cercando di mirare abbastanza in alto dal punto di vista strutturale perché è nato da poco e da poco come si vede anche qui stasera sta facendo dei buoni passi con tanti iscritti quindi vuol dire che ce la stanno mettendo tutta con mille difficoltà, però il futuro dovrebbe essere abbastanza rosio per come stanno lavorando. Noi mister ce la stiamo mettendo tutta perché da piccola società dobbiamo cercare anche di dare una mano ai dirigenti ogni tanto investirci di alcune cariche che non sono proprio le nostre che però fanno sì che la loro crescita è comunque supportata anche da persone che ci tengono come noi siamo un gruppo di mister amici soprattutto e che cerchiamo apposta di far sì che il supporto non gli manchi. Senti due cose veloci, diceva prima mister Piacentini, mister prima squadra che c'è un tutt'uno con la Juniors e con il tuo lavoro insomma lavorate in sintonia e quindi ci sarà questo interscambio continuo di informazioni e di uomini e poi mi avevi accennato a telecamera spenta e se non ricordo male mi sembra 160-170 ragazzi. Sì sì questi sono i numeri che girano insomma dovrebbero essere più o meno, si dovrebbe essere attestato su questa cifra qui intorno ai 160 al numero degli iscritti, per quanto riguarda la domanda che avevi fatto prima sì con Piacentini stiamo lavorando insieme e ci stiamo allenando insieme diciamo le stesse serate abbiamo fatto una preparazione qui noi Juniors ospiti della struttura del cielo verde quindi sfruttando spazi, sfruttando distanze giuste, respirando bene perché comunque allenandosi d'estate durante il periodo della preparazione si fa fatica e qui sono state un po' attenuate insomma queste fatiche siamo stati ospiti diciamo dai proprietari e abbiamo sfruttato quello che ci hanno messo a disposizione ovvero sia tutto, impianti, spazi, docce e quant'altro, dobbiamo ringraziare veramente i proprietari della struttura perché per noi è stata importante. Noi abbiamo iniziato qui e poi ci siamo trasferiti a Istia dove abbiamo appunto incontrato anche la terza categoria, la nostra prima squadra di mister Piacentini lavorando in sinergia vuol dire facendo ripetute partitelle insieme, confrontandoci e quindi facendo sì che potessero crescere in maniera tranquilla senza un agonismo esasperato sia la sua che la mia squadra e quindi siamo contenti, felici, sereni, senza ambizioni particolari altimiranti dal punto di vista dei risultati perché sappiamo comunque di disporre di squadre discrete ma chiaramente non siamo il fiore all'occhiello e l'elite delle squadre della Maremma insomma nelle nostre categorie rispettive. Penso che ci si divertirà, questo sicuramente perché il gruppo è ottimo bravissimi ragazzi, buonissimi giocatori, io con la mia categoria anche per quello che mi contraddistingo diciamo al mio carattere punterò a far meglio possibile, l'anno scorso la squadra ha fatto un terzo posto quindi credo che se facessi peggio mi potrebbe dispiacere, non solo a me ma anche a ragazzi stessi quindi cercheremo di far bene più o meno assestandoci in quelle posizioni di classifica allora buon lavoro grazie mille, grazie a voi